Musica Grande successo e grande entusiasmo a Martinsicuro per il concerto dei Gemelli Diversi. In Migliaia, domenica sera, si sono riversati alla Rotonda Las Palmas sul lungomare Europa della cittadina Truentina per il primo di un fitto cartellone di appuntamenti che l'amministrazione comunale ha predisposto al ridosso del Ferragosto, molto apprezzato dai cittadini e dai tanti turisti che non si sono lasciati sfuggire l'occasione per divertirsi e cantare insieme a strano e tema, impegnati nel nuovo tour in tutta Italia i loro grandi successi che tra la fine degli anni 90 e i primi del nuovo millennio hanno scritto pagine indelebili della scena rap italiana. Stasera è la cinquantesima rata che facciamo, quindi ieri eravamo a Roma, l'altro ieri in Sicilia, dopo domani torneremo nel Lazio, quindi siamo sempre in giro, ma qua sappiamo quanto è calorosa la gente. Conosciamo bene il pubblico di queste fantastiche terre e stasera sono venuti a salutarci, ci hanno detto veramente, come dice tema, che è piena la piazza, quindi non vediamo l'ora di salutarli, di abbracciarli con la nostra musica. Una serata frutto dell'impegno dell'amministrazione comunale che ha cercato sin dallo scorso mese di maggio, con la partenza proprio dal lungomare Europa, della tappa del Giro d'Italia, di ampliare l'offerta turistica per coloro che scelgono Martinsicuro e il suo litorale come meta per trascorrere le proprie ferie. Una bellissima serata, tantissime persone, una serata iniziamo con la musica degli anni 90 e poi con i gemelli diversi, quindi veramente una bellissima serata d'estate, insomma, che all'interno di una serie di eventi che stiamo organizzando ci avviciniamo al Ferragosto nel migliore dei modi. Ci auguriamo veramente che chi ci ha scelto possa tornare nuovamente da noi per quello che stiamo facendo e per gli eventi che organizziamo. Ma si guarda già avanti ai prossimi appuntamenti previsti per il giorno di Ferragosto e per domenica 18. Siamo contentissimi di aver fatto una serata come questa, la cittadinanza risponde sempre bene. Il 15 avremo i Madia Bazar, il 18 avremo Fausto Leali, quindi un calendario per Martinsicuro pieno di eventi e sappiamo benissimo che la cittadinanza e i turisti risponderanno assolutamente in maniera positiva. che cammina sui sentieri più oscuri, sta cercando sorrisi sinceri.